Un caro saluto a tutti. Abbiamo cominciato l'altra volta a parlare dell'umiltà e continuiamo ancora a parlare dell'umiltà, della quale possiamo dire le ragioni più profonde che la rendono fondamento di una genuina vita cristiana e in realtà la rendono anche fondamento di una vita autenticamente umana. L'umiltà pone l'io in secondo piano e Dio al primo piano. Questa è in sostanza la vera conversione. Si tratta di riparare poi in fondo l'errore fondamentale dell'uomo, quello originale, che consisteva appunto in una mancanza di umiltà, in una espressione di presunzione di orgoglio. L'io credette di mettersi al posto di Dio e poi si accorse che i conti non tornavano. La felicità era persa, la serenità cedeva il posto alla paura, la fiducia era soppiantata dal sospetto, anziché un giardino delle delizie c'era una terra ingrata che esigeva sudore per fornire il cibo necessario all'esistenza. Qualcuno mi dirà che vado troppo lontano, rievocando ancora la storia del peccato originale. Il fatto è che quel peccato non è lontano, anzi è insito nella natura umana. È la tentazione inevitabile, dato che è inevitabile il rischio con il quale si misura necessariamente il dono della libertà. È originale perché dà origine a tutti gli errori e a tutti i guai. E per questo quel errore si perpetua ancora adesso, nel presente della nostra storia, che ha proclamato la morte del padre e, ubriaca di scienza e di ragione, ha relegato Dio nelle favole. Così l'uomo manifesta ancora prepotenza, prevaricazione, sete di potere e continua a fare esperienza di dolore e di morte, di ingiustizie e discriminazioni, di precarietà e insicurezza totale. La civiltà cristiana, e ripeto una civiltà veramente umana, ricomincia dall'umiltà. Convertitevi, è il primo invito del Vangelo di Gesù, il quale dichiara di essere venuto per i peccatori. Questo significa che solo chi umilmente si riconosce nell'errore, nel peccato, può accorgersi che Dio cammina con noi, che ci offre la mano, il perdone, il suo amore, che risana il nostro cuore e la nostra mente, e ci apre la via della vita. Perché in fondo l'umiltà è saggezza. E come dicevamo nella precedente conversazione, è adesione alla verità, stare al proprio posto. Nel nostro caso, di fronte a Dio innanzitutto, è essere coscienti di essere relativi e non assoluti. Aggiungo stavolta, siccome siamo nel tempo di Natale, che questa è la lezione vera di Natale, un Dio che non fu orgoglioso di essere Dio, ma divenne uomo, il più povero e il più umile degli uomini, e nascose la sua potenza d'amore nella povertà di tutti i mezzi umani. Perché di questo soltanto abbiamo bisogno. Impariamo la lezione.